a khbari vado dai fuoco ha sentito è fatto il fuoco? aspetta pronto? aspetta 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 si ma aspetta che si confuguita aspetta aspetta si sei il dottor? aspetta pronto fuoco aspetta Pietro aspetta 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 pronto fuoco aspetta aspetta l'ho beccata e piena questa? non lo so? è tutta so basta? dico basta? no 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 4 o 5 appena pronto fuoco foto no no vai appena pronto fuoco basta fuoco 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 fermo fuoco fermo fuoco fermo fotografia aspetta la grossa si la grossa si si aspetta anche dietro va va